Marco Denaro, guarda anche personalmente questo è un appello che voglio fare perché Marco è stato un mio giocatore quando ho allenato il Riviera del Brenta, è una persona squisita, è veramente un gran bravo ragazzo, ma questo non vuol dire, è detenuto in condizioni inumane senza una motivazione vera, io credo che il nostro governo deve portarlo a casa assolutamente, non possiamo nello stesso momento chiedere ai nostri imprenditori di andare in Sudan a investire nel Sudan e poi nello stesso tempo il nostro fondazionale è detenuto in condizioni inumane, no è sbagliato, assolutamente il governo italiano è chiaro che è difficile, lo capisco, ci sono sicuramente dei problemi che vanno oltre, però Marco deve tornare a casa. Ciao Daniele, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Daniele Resini, presidente del Venezia Radio Club. Possiamo dire che più veneto di così non si può, lo dice fantastica. A Venezia, cioè... Il capoluogo. Esatto, esatto, più veneto di così è possibile. Allora, senti, parlaci un po' della storia del club e del dei 250 tesserati, più di 250 tesserati che hai. Allora, il club intanto è, diciamo che è nato dall'unificazione sostanzialmente, di due club cittadini, uno è il Foscarini, a Legbi, e l'altro il Venezia, a Legbi Lido. Tu eri presidente del Foscarini? Diciamo che l'ho fondato, insomma. Ecco, vabbè, il fondatore è presidente. Ma su tutto me, come si dice in vera. No, 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 in realtà il presidente poi era il... perché non mi ha fatto una polisportiva, poi... perché nasce da una scuola questa esperienza, nasce da un grande istituto che parte dalle primarie e finisce con due licei, no? Quasi mille ragazzi, insomma, no? È un po' anche della mia pigrizia, perché all'epoca o bisognava andare a Lido, dal centro storico, o bisognava andare a Mestre. Io, mio figlio, perché ho giocato tanti anni con il Mestre, era andato lì, però, insomma, è molto scomodo, soprattutto in terraferma, portare i bambini, no? I bambini piccoli. Mio figlio, all'epoca, era un under 9, c'era quella che ha tirato i disperi, che adesso ritorneranno, fra l'altro. Esatto. E, insomma, mi feci mandare, dal Venezia Mestre, un'istruttrice, brava, fra l'altro. La Tominelli, che era stata apertura della Nazionale. Solo che lì, a quel punto, il Venezia Mestre, per una delle prime crisi finanziarie che lotta negli OV, ripetutamente, per diversi anni. Una storia, diciamo, ripetuta nel nostro mondo, eh? Sì, ma in particolare, poi, lì, in questo club, che ha avuto diversi rovesci, anche recentemente. Peccato, perché poi aveva anche una bella, una grande dimensione. Io ho allenato, per esempio, nell'ambito di uno scambio, perché non riuscivamo a fare le categorie alte. Abbiamo fatto una franchigia antelittera, ma all'epoca, portando un po' di ragazzi con un tutoraggio. E devo dire che io ho allenato gli altri quattro anni, una squadra fortissima, insomma. Poi, con le crisi, c'è stata una diaspora e molti di questi sono finiti nei club, grandi club, e alcuni di questi hanno continuato con ottimi risultati, insomma, proprio a livello di performance sportive, no? Ma, ripeto, è stata un po' la mia pigrizia, per cui, a quel punto, una volta sistemato il... cioè, una volta rimasti senza allenatrice, ho deciso di continuare io, insomma, a Venezia, e siccome i ragazzini facevano i Foscarini e si allenavano lì, in questo campo, chiamiamolo campo, era un ex campo di hockey storico, il campo della gloria, si chiama, perché il Foscarini è proprio nel cuore della città ed è una delle scuole più prestigiose, insomma. Sì, sì, ma il Foscarini è fondato da Napoleone, per i bambini poveri, è una storia lunga, no? Ecco. E il punto del campo gloria, come lo chiamavamo, e che si chiama tuttora, è in realtà un tappeto su una cosa di cemento, perché i bambini passavano molto velocemente la palla, perché sennò cascavano. E quindi, al di là della battuta. Però alla fine riuscì a mettere in piedi una squadretta, facevamo un torneo all'anno, al paese, però insomma abbiamo fatto qualche risultato, nonostante le nostre scarse risorse, però insomma c'era un bel gruppetto di ragazzini, di original, potremmo dire, no? E da lì poi la cosa è continuata, i genitori sono appassionati, ma alla fine eravamo 130-140 ragazzini, insomma. Idem il Lido, e il Lido è una storia un po' più lunga, nel senso che nacque dalla mancata adesione all'unificazione fra il primo Venezia Rugby e il Cus Venezia, e il Mestre, che ha detto origine al Cus Venezia Mestre, che poi arrivò anche nel Super 10, no? Quello che diventò Casino di Venezia, no? C'era sponsorizzata dal Casino di Venezia. Esattamente, e fece l'eccellenza per diversi anni, no? Poi appunto c'è il crack, fece, diciamo, il passo un po' più lungo della gamba, ma al di là di questo, il Lido comunque continuò chiamandosi Lido, anche perché il campo era lì sostanzialmente, era le quattro fontane, com'è ancora, e abbiamo cominciato a collaborare a livello di franchigione del 16, nel, adesso vado a memoria, nel 2016 mi pare, mi ha fatto un paio d'anni di franchigione del 16, avremmo dovuto fare la 18, ma alla fine a quel punto abbiamo deciso, molto assaggiamente, di unificare le fonti. Quindi abbiamo cambiato nome alla società, adesso per questioni meramente amministrative, abbiamo continuato con tutte le vecchie funzioni amministrative, però sostanzialmente abbiamo rifatto statuto, direttivo, tutto, insomma abbiamo costruito una nuova società. Il Venezia Rugby è presentato in pop a magna, anche perché è l'unico che ha la titolarità, tra virgolette, territoriale. Cioè nel senso che Venezia è, è Venezia re, senza se, senza ma, senza lì, senza mestre e compagni cantanti. Per carità, la mia idea sarebbe quella di fare un grande progetto unitario per quanto riguarda il territorio, no? Magari, perché l'idea forza, e d'altra parte Innocenti l'ho anche sostenuto, è quella di creare dei super club, dei grandi club, no? che raggruppino territorialmente tutte le realtà. Noi potremmo qua, nel veneziano, potremmo avere delle cifre di atleti importanti, quindi attrarre risorse, sponsor, eccetera. Però, insomma, noi comunque abbiamo questa scelta unitaria, l'abbiamo fatta e perseguita, e questa è già una buona scelta che ha pagato, sostanzialmente. Perché abbiamo numeri discreti in tutte le categorie. L'abbiamo scelta due anni fa, anzi, perché siamo arrivati fermi, poi con la pandemia, abbiamo sfiorato il passaggio in C1 e ci riproveremo, insomma. L'importante è comunque garantire un flusso di ragazzi e di numeri fra i piccoli che poi crescono, crescono, maturano. Abbiamo avuto anche buoni atleti, molti atleti nelle selezioni regionali, insomma, quindi questo è l'importante, a formare di buoni reglisti. Questa è l'idea che abbiamo sempre avuto e che andrà avanti, insomma. Poi con tutte le... Sai, Venezia, gestire un club a Venezia è molto complicato. E' immagino, immagino. Poi adesso, infatti... Proprio, proprio, praticamente, eh. Una volta, una volta abbiamo fatto un... Ci hanno fatto una pagina su tutto a sport intera per i Foscari. Perché il capo redattore ci ha detto, ma come cavolo fate a giocare a Venezia? Che è una roba... No, ma spiegacelo, perché comunque interessa. Beh, no, ma guarda, Venezia, il problema è che ti muovi via acqua, insomma. Quindi Venezia è un arcipelago. Infatti il nostro hashtag, potremmo chiamarlo, è arcipelago rugby. Noi siamo dislocati in diverse aree della città. Avevamo tre campi, in realtà, perché adesso dentro la scuola, dentro il Foscari è un po' difficile per la questione della pandemia. Ma altrimenti siamo partiti con tre campi. Il primo era quello tradizionale, in cui, diciamo, facciamo le partite dei seniores. Perché è anche regolamentare. Che è le quattro fontane, storica località, dove è appunto dislocato il campo di regno. Poi abbiamo conquistato, e da quest'anno, anzi, l'anno scorso, lo gestiamo direttamente, il campo dei bacini dell'arsenale. Che è un campo molto bello, interessante, perché è costruito dentro l'arsenale di Venezia. Questo campo è proprio nel cuore dell'arsenale. Da parte nord, no? Ci sono i vecchi edifici della marina che lo circondano. Cioè, è un posto abbastanza suggestivo. E qui lo stiamo risanando ancora oggi. Ci spendiamo parecchi soldini, insomma. Per questo abbiamo vinto il bando col comune e abbiamo avuto in concessione di gestione completa il campo. Poi è una bella vittoria avere un campo in centro storico. E poi c'era il Foscarini, che però è un campetto dedicato sostanzialmente al mini-reg. Se riusciremo a averlo ancora, ma ho visto che poi i ragazzini si stanno abituando anche a giocare su un campo normale, di terra. E questo è importante, insomma. In ogni caso, anche i piccoli, anche i darseniali, i dottorati. Ma abbiamo, su questo versante, come in moltissimi altri club, c'è stato un grande afflusso di ragazzini l'anno scorso. Un po' perché gli sport chiusi erano in difficoltà. Però insomma, abbiamo avuto buoni numeri, parecchie decine di ragazzini, under 6, under 8, under 10. Ancora oggi anche gli under 2 sono parecchi. Under 14 ci sono. Poi le categorie A hanno risentito un po', no? Perché i genitori... Tieni conto che molti genitori qui sono lavoratori autonomi. Quindi erano un po' resti a mandare i figli in situazioni in cui c'era una possibilità di contagio. Eh, certo. Noi siamo stati penalizzati anche da questo punto di vista. Però abbiamo tenuto sostanzialmente con i tesserati dell'anno scorso forse anche un piccolo incremento. e adesso ci prepariamo a fare una grande stagione, insomma, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia. Speriamo che delle pandemie... Sono super positivi, dai. No, ma ci mancherebbe altro. No, riaperto gli stadi, insomma, andiamo verso la stagione calda, facciamo il vaccino. Di conseguenza per settembre ci auguriamo tutti che si possa... Io spero francamente che riusciamo a ripartire con gli impianti rodati bene. Stiamo lavorando molto in tutti e due gli impianti, con le palestre. Cioè, aprendo il più possibile e cominciando con un'attività regolare. Poi, sai, il gioco fa giustizia di tutto. Quando i ragazzini giocano, si divertono, basta. Il gioco è fatto. È stato molto difficile reggere in questo periodo, devo dire, perché... Immagino. Ti dico, abbiamo avuto, insomma, è stato anche pesante dal punto di vista proprio mentale reggere la pressione da parte mia anche, ma da parte di tutti i dirigenti, insomma, perché le responsabilità erano enormi. Eh sì, questo è... Però, insomma, sì, 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 io l'ho vissuta anche, diciamo, come una pressione molto, molto forte, insomma, perché c'è chi spingeva per mollare, chi spingeva per stringere, insomma, mediare non è stato semplice, insomma. Però, alla fine, credo che ci siamo riusciti. Ecco, questo era l'importante. Mi pare che l'entusiasmo che ancora contraddistingue, nonostante le difficoltà, anche a questa ultima di Marco, contraddistingue il gruppo sia proseguendo, insomma, si stia consolidando. Io mi aspetto una bella ripresa, insomma. Come abbiamo fatto l'anno scorso, siamo partiti, appunto, con grandi numeri, un lancio in grande stile, un Open Day, che faremo, ripeteremo anche quest'anno, e speriamo di continuare bene, insomma. Incrociamo le dita. Sì, come ci proponiamo, perché l'idea di questa, era proprio rilanciare il rugby nella città, insomma, e nell'arciperago globale, quindi, perché sai, c'è gente che arriva da, dall'immediata terraferma, da Sabioni, Tre Porti, c'è gente che arriva da Murano, dalla Giudeca, cioè c'è tutto un Interland, che è collegato via acqua, quindi non è così semplice. L'importante è avere una società policentrica, che abbia diversi punti di sviluppo. In questo caso garantisci poi le riunificazioni, sia a livello tecnico che anche a livello fisico, quando possiamo magari fare lineamenti congiunti. E infatti ci slochiamo, un po' ce l'alliniamo a Lino, un po' ce l'alliniamo a Foscarini. Tieni conto che noi per quattro mesi il campo dell'Ino non ce l'abbiamo, perché è occupato alla Biennale di Veneto. E quindi lì c'è un bel problema. Però il campo di vecini ci ha permesso di rovesciare, diciamo, il disagio, avere un campo a tutti gli effetti, che ospita tutte le squadre. Fra l'altro, essendo un campo in mezzo, potremmo anche ospitare i regruppamenti nella loro interesse, under 12, dai 6 ai 12. Questo potrebbe essere una risorsa anche per il Comitato Veneto, perché qua uno dei grandi problemi del rego italiano è la carenza di impianti. Se noi aggiungiamo un impianto, facciamo una grande operazione, tu cura al di là delle implicazioni o delle qualità. Però insomma, quello che vogliamo fare è rendere, diciamo, funzionali al meglio tutti gli impianti che abbiamo. È una bella fatica comunque. Sì, sì, anche perché voglio dire, io milanese non mi immagino andare all'allenamento in marca. Eh beh, certo. È una cosa... No, no. Però non ti nascondo una cosa, mi piacerebbe molto. Ah, sì. Noi abbiamo un naviglio, però è poco percorribile. Sì, infatti. Allora, la vostra è una società nata sui valori fondamenti proprio del rugby, disciplina rispetto degli avversari, degli arbitri, fratellanza e fair play. Questo per introdurre l'argomento che oggi noi ci siamo trovati per affrontare, no? Perché siamo qui a parlare di un rugby particolare che non è quello giocato, o di club, ma molto più importante perché parliamo di Marco Zennaro, 46enne, che è stato un giocatore e dirigente del tuo club. Sì, sì, sì. Lui ha giocato in diverse squadre veneziano, Riviera, Mestre, Veneto, Lido. Insomma, è un giocatore che ha percorso, diciamo, proprio il territorio, anche ad alti livelli, insomma, si guarda in serie. Certo. e poi non è solo un giocatore di rugby, è anche uno sportivo tutto tondo. Lui è anche vicepresidente di una remiera, la società remiera francescana ed è un vocatore, un regatante, ha fatto diverse regate in Canale Grandi, insomma, in Carolina. Cioè, voglio dire, è un vero uomo di sport, oltre a essere un vero uomo di rugby, soprattutto, da questo punto di vista. E come tale non ha mai mollato e quando ha potuto ha dato una mano per diffondere il rugby, per farlo crescere. Quindi è diventato un nostro dirigente, un dirigente tecnico del club e allena gli under 16, tra l'altro. Si è riservato uno spazio importante perché allenare è molto importante e anche molto piacevole. Io non lo faccio perché, putt, non lo faccio più. Sembra mai un buro. Sei un buro. Esattamente. Ho finito gli under 16 e me ne pento molto perché la dimensione del campo rimane fondamentale sia per risolvere le questioni ma anche per affrontare, cioè per far crescere anche se stessi perché poi quando alleni, quando sei in rapporto con i ragazzi, cresci tu, perché fai il formatore, fai l'educatore prima di tutto. Il rugby è sempre così, soprattutto per i ragazzi, ma anche con le prime squadre, con i seniori. È sempre una grande vicenda umana, culturale, sociale. Il rugby ha questa caratteristica. questi connotati di carattura proprio, di valori, di valori che stanno nel gioco, fra l'altro. Sono tutti nel gioco e quindi come tali devi svilupparli e quindi cresci anche tu. pubblico. Certo. Io volevo che tu ci raccontassi un po', perché sui giornali e tutto quanto viene posta la vicenda, però un po' così. Volevamo che tu ci raccontassi un po' che tipo è Marco. Prima della sigla, abbiamo visto ieri, ieri Innocenti, durante la partita della finale del Top 10, ha dedicato delle parole a Marco perché è stato uno dei suoi giocatori. Esattamente. Esatto. Io volevo che tu ci parlassi un pochino di lui, cioè che persona è. Marzio ha detto che lui è una persona eccezionale e noi ci crediamo, però volevamo che tu ci spiegassi un attimo che chi è lui, ma soprattutto che cosa è successo. Diciamo che Marco, sì, non ha bisogno di presentazioni, visto che sia stato presentato da Marzio, ma insomma è un grande amico, un fratello, un fratello di rugby, ma anche proprio un amico carissimo ed è una persona saggia, è una persona posata che però è molto ferma. C'è anche un uomo di rugby, chiamiamo. Un uomo di rugby, perfetto. Un uomo di rugby che quando il rugby riesce ad essere acquisito dalle persone così, queste persone hanno una qualità morale, personale, che si estrisse appunto nell'attività, nella capacità di rapporto, nella capacità di far crescere le persone e di intrattenere ottimi rapporti. La vicenda che l'ha coinvolto è abbastanza pesante, nel senso che lui appunto è un imprenditore che ha un'importante impresa che produce materiali matepongi, trasformatori, materiali, apparecchiature elettriche, elettromeccaniche e aveva fatto questa fornitura al Sudan con cui sia lui che il padre lavorano da quasi 25 anni o forse oltre per 25 anni e questa fornitura è stata contestata da un'azienda che appunto è legata a delle fazioni politiche e militari della zona. Sono stati loro a fare le perizie, quindi diciamo che era una perizia di parte, ma ha andato giù chiedendo appunto nel modo più pacato e appropriato possibile e chiedendo una verifica della fornitura della fornitura piuttosto cospicua di materiali un milione una perizia indipendente e evidentemente la cosa ha prodotto un po' di fastidio da parte di costori di questo gruppo e questi qua l'hanno fatto arrestare sostanzialmente. Lui è stato in condizioni detentive molto pesanti per parecchie settimane e adesso siamo ancora in stalla sostanzialmente l'ultimo intervento della fornitura sembra che non abbia prodotto gli effetti richiesti anche perché poi lui bisogna ricordare che fu che è stato non più di qualche giorno fa rilasciato dalla giustizia ordinaria del sud la quale ha riconosciuto che non c'era dolo che non c'era turva non c'era niente quindi lui è stato liberato a quel punto però è stato ripreso di nuovo da questa fazione che ha una soffazione armata insomma chiamiamoli signori della guerra chiamiamoli comunque politici con con le armi in mano ma sì ma sono cioè il sud come altre situazioni hanno diciamo che l'establishment è un po' così è molto discutibile tra parentesi stamattina sul Corriere della Sera c'era una notizia che non è proprio buonissima perché ieri mattina un giudice di Khartum ha respinto la richiesta di arresti domiciliari che poi si trattava di metterlo in albergo ha chiesto dalla difesa e ha rinviato l'udienza il 10 di giugno e stabilito che dovrà restare rinchiuso finché non siano arrivate le garanzie economiche cioè i soldi di 800 mila euro rivendicati da questa SEDC che è la sudanese Electric Distribution Company la cosa divertente paradossale paradossale è che il colpo di Stato che c'è stato nel 2019 che ha rimosso un presidente storico che lì da 30 anni il nuovo diciamo reggente è un parente stretto del presidente di questa azienda sì no certo quindi si mescolano interessi personali interessi insomma è una questione molto molto comunque delicata perché il problema è che la salute di Marco è stata infatti lui per essere sofferente compromessa insomma pesantemente cioè non solo moralmente ma anche fisicamente anche per stare due mesi in quelle condizioni ti prova è molto pesante perché era dentro in una cella con 60 persone sì sì proprio promiscuità ma pensiamo appunto come possa essere un carcere in sudan un carcere di prima accoglienza ma anche c'è una struttura diciamo in qualche modo organizzata poi era buttata lì dormono per terra insomma qualche foto è circolata anche per capire la brutalità della detenzione insomma voglio dire in questi casi sì la prima cosa l'emergenza è quella di toglierlo da lì insomma adesso vediamo se ci sarà qualche novità insomma io mi auguro di sì perché noi ci stiamo movendo in tutti i modi possibili questa cerimonia fatta a Padova mi pare si è riuscita bene poi nei giorni scorsi domenica abbiamo fatto una vogata con più di 130 barche o migliaia di persone lungo il canale grande insomma che insomma non è facile a Venezia vedere un'affluenza del genere tutti siamo arrivati stupiti positivamente stupiti ovviamente sia della risposta del mondo del rugby che del mondo della voga insomma è risposto pienamente con grande partecipazione insomma era un colpo d'occhio vedere il canale grande pieno di barche insomma pieno di gente che che andava a questo corteo che ha partecipato a questo corteo e sì perché così più gente lo sa meglio a parte che Di Maio si è dato da fare cercato di intervenire è partita una delegazione della Farnesina però diciamo che credo che si tratti di una questione meramente economica cioè temo di sì che l'abbiano buttata proprio sul riscatto sostanzialmente vediamo finché non arrivano le 800.000 euro non se ne parla caspita più sfacciati di così non si no certo ma d'altra parte in quasi tutte le situazioni in cui gli italiani sono stati presi sotto sotto si parla di riscatto più o meno veratamente chissà cioè bisogna cercare veramente mica tanto no infatti più o meno veratamente sì no ma possono mascherarla come un indennizzo cioè se lo dico veratamente perché nessuno dice fuori i soldi altrimenti questo resta qui cioè insomma ci sono degli degli escamotage che per cui questi appunto sono inventati questa cosa della della fornitura inadatta insomma però nessuno ha mai fatto una una perizia indipendente e tanto meno sì e poi fra l'altro c'è appunto il precedente c'è il precedente la la sentenza che di fatto lo ha liberato per cui accertava che lo scagionava e accertava che non c'erano che non c'era d'oro insomma in questa situazione per cui già quello ma speriamo che almeno riescano riescano almeno farlo dare che lo tolga dalla prigionia perché appunto noi siamo abituati a pensare alla detenzione in un certo modo ma lì non è così insomma tragicamente come credo in quasi tutto sì esatto in questo tutto il continente africano con questi regimi cioè così sono legati al totale arbitrio e questo è il pericolo vero quindi noi dobbiamo far valere innanzitutto il diritto a una detenzione non solo un giudizio imparziale legittimo ma anche una detenzione umana e appropriata insomma quindi se l'unica possibilità sono gli elezioni viciliari che vengano al più presto insomma noi stiamo cercando ripeto con tutti i mezzi di enfatizzare di rendere oltre alla regata oltre alla regata Daniele che avete organizzato qualcos'altro adesso ci stiamo ci stiamo muovendo in qualche modo faremo intanto abbiamo tappezzato la città di la città per esempio in questo caso noi abbiamo il campo di Baccini abbiamo messo un grande manifesto perché c'è il solo neonautico quindi un enorme striscione adesso anche a Murano credo si farà stiamo comunque sensibilizzando perché a Venezia si fa presto insomma sensibilizzare basta esporre qualcosa con la gente con la quantità di gente che passa è ovvio che ci sia che ci sia un magari potremmo fare volantinario insomma ci stiamo pensando adesso questo è il concetto tra parentesi tra parentesi a parte la campagna di sensibilizzazione sui social con l'hashtag sostieni Marco sosteniamo Marco sosteniamo Marco esatto però ci sono state anche delle società proprio del territorio come Ragbi Piavi Vado di Adene Segusino Ragbi e Montebelluno Ragbi che hanno aderito diciamo a questa campagna sì 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 in questo ho dato l'altro alla fine quando noi abbiamo fatto il comunicato stampa e abbiamo diffuso quella foto che poi avevo fatto io durante una partita agli under 16 che c'è lui che parla ai ragazzi ecco abbiamo avuto subito il riscontro intanto della presa di posizione della FIR con il comunicato e poi che a questo punto ha lanciato l'hashtag con le immagini e questo è stato importante perché molte società hanno aderito l'importante è continuare a battere insomma il ferro perché sì non bisogna mollare assolutamente la mobilità questo no compatibilmente ovviamente con il coordinamento che dobbiamo avere con le autorità che stanno trattando perché siamo sempre mossi così anche all'inizio non ci siamo partiti subitissimo proprio perché avevamo un livello di riservatezza concordato con i parlamentari che seguivano la questione e adesso poi quando fu è stato appena è stato chiaro di chi si parlava allora ci siamo mossi subito fino al giorno prima però bisognava tenere un po' delicato ma infatti infatti non bisogna che puoi urlare soprattutto quando scrivi bisogna bisogna migliorare le parole e questo l'abbiamo cercato di fare in collaborazione con la famiglia e con saranno preoccupati loro madonna mia e c'è credo anche perché ha tre bambini lui di cui uno gioca a rugby anche il più grandino su un underdog ma lei ma ma che incubo che sta vivendo infatti infatti cerchiamo di stare vicino alla famiglia ovviamente il più possibile facciamo conosciamo sono degli amici ma noi veramente contiamo che la cosa possa risolversi in qualche modo speriamo e ci speriamo sicuramente e ci contiamo e cercheremo di batterci di fare come in campo ma i domi no il sostegno è eh sì io spero che questo incontro lo vedano in tanti e utilizzino poi l'hashtag proprio per sensibilizzare e sostenere questa campagna di divulgazione di aiuto nei confronti suoi certo certo questo è l'obiettivo che abbiamo fare in modo che che la sua figura venga conosciuta e venga conosciuta la situazione quindi si dia si faccia in modo di 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 ampliare il più possibile questo appello di dare una grande risonanza ecco che arrivi a tutta la stampa noi abbiamo la stampa locale ha risposto bene devo dire ho visto ho visto sì sì e il nazionale in qualche caso sì ho visto media situazione coriore insomma c'è stato un bel movimento bisogna bisogna perché poi queste cose quando passi il tempo vanno un po' perdono il diciamo la la come si potrebbe dire la brillantezza la patina di brillantezza della notizia di prima mano invece bisogna tenere alto il livello della mobilitazione e dell'attenzione questo è fondamentale per noi e spero anche per Marco quello che sicuramente gli ha fatto piacere perché ha avuto la possibilità di vedere cosa stiamo facendo è capire che siamo con lui e quindi questo come come sostegno anche personale credo sia stato importante in ogni caso e questo era anche uno degli obiettivi cioè fare in modo che lui non si sentisse solo perché in questi casi la solitudine o l'idea di essere abbandonati è anche se c'è suo padre lì eccetera però insomma vedere che hai intorno la tua città che si muove all'unisono e con grande impatto credo che aiuti molto dal punto di vista dal punto di vista morale importante io spero che abbia funzionato ma penso di sì insomma pensiamo tutti che sia così e continueremo insomma questo è l'obiettivo che abbiamo mai mollare assolutamente come sul campo insomma esattamente Daniele io ti ringrazio sei stato molto gentile grazie a te invece faremo il possibile per divulgare al massimo questa situazione buon rugby e incrociamo le dita e forza Marco grazie ancora forza Marco grazie a presto grazie a presto anche a te ciao ciao grazie a presto 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 grazie a presto